Siamo qui in via Rio de Janeiro, uno dei quartieri in cui è stata posizionata l'isola ecologica presidata con un infopoint per accompagnare la città tutta che ha utilizzato fino a oggi quest'area come una discarica a cielo aperto, appunto per accompagnarli in un processo migliorativo di differenziare. Da oggi vige il nuovo calendario ridisegnato per migliorare, per rendere più semplici le operazioni di differenziazione dei rifiuti plastica e metalli in un unico sacco che è quello giallo che solitamente veniva utilizzato per la plastica il vetro nell'apposito contenitore che è in via di distribuzione, qualora non lo si fosse ricevuto si può ancora utilizzare il carrellato di prossimità in attesa appunto che tutti i quartieri vengano raggiunti alla distribuzione del kit. Nessun stravolgimento sui calendari, un giorno in più per l'umido il sabato cercando di agevolare il cittadino che ha la necessità soprattutto nel nostro territorio di non avere rifiuti malodoranti a casa per contro la riduzione ad un giorno del secco residuale. La motivazione sta nel fatto che differenziando correttamente il secco residuale rappresenterà un sacchetto non più grande di un sacchetto della spesa con rifiuti che non sono malodoranti perché appunto sono secchi residui e quindi possono rimanere tranquillamente una settimana a casa in attesa del martedì in cui verranno ritirati. Ricordo a tutti che vige l'obbligo di non utilizzo di sacchi neri o che non permettono la facile individuazione dei rifiuti. Diciamo che questa settimana si avrà un po' di tolleranza, dalla settimana successiva quei sacchi verranno automaticamente multati perché c'è l'obbligo di lasciarli in prossimità del numero civico per cui ogni cittadino deve attenersi alle regole stabilite dall'ordinanza sindacale e dai volandini che sono stati distribuiti in maniera massiva presso tutti i numeri civici e comunque presenti negli infopoint dove le ragazze della Tecra sono disponibili a dare tutte le informazioni e a recuperare eventuali lamentele su disservizi o quant'altro. Pannolini è un servizio dedicato a chi ha necessità specifiche quindi perché ha dei neonati o degli indigenti a casa basta che chiami il numero verde della Tecra, indichi le proprie esigenze, il numero civico e ci sarà quindi questo servizio dedicato con il ritiro porta a porta quotidiano. Già 125 famiglie ne fanno uso quindi non abbiate timore, il numero verde della Tecra è disponibile per qualsiasi esigenza, il personale del comune e della Tecra è disponibile a dare tutto il supporto affinché in debbi brevi si raggiungano obiettivi ambiziosi sulla quota di differenziata raggiungibile in questa città.